Si inizia a respirare normalità in Puglia, questo è il lungomare di Bari e dopo 5 mesi tornano le panchine. Nello scorso mese di dicembre, in vista delle festività natalizie, il sindaco Antonio De Caro aveva inasprito le misure anti-assembramento disponendo anche la rimozione delle panchine sul lungomare di Crolalanze, sul corso Vittorio Emanuele, 245 complessivamente quelle rimosse. Nel ritorno della zona gialla, proprio Antonio De Caro simbolicamente ha voluto lanciare il suo messaggio di speranza sedendo su una delle panchine di fronte al mare. Oggi scrive sui social, finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino a oggi. Oggi riaprono anche giardini e parchi pubblici, andiamo a vedere il giardino Garibaldi. Siete contenti? Oh, felice! Abbiamo aperto lo sfumante per brindare la nuova apertura. Che avete fatto in tutto questo tempo che è stato? Eh, ambrei! No, in gas, in gas, possiamo stare senza vedere sempre la tv. Stiamo contento, sì, ma l'importante è che non giocano più a corte, che non fanno l'assemblamento, questo è tutto. Sono contento, sì! Stiamo contento, sì! Grazie.